Signore e Dio nostro, ti preghiamo perché tu sia accanto a coloro che sono morti a causa del coronavirus e alle loro famiglie, come pastore misericordioso. La tua mano benevola accadezzi tutti i suoi figli e hanno perso la vita, e doni loro il conforto e la pace, portandole alla vita eterna. Fa che la tua consolazione giunga alle famiglie dei defunti, che non hanno potuto assistere e salutare i loro cari, e permetti loro di non sentirsi più oppressi dall'afflizione. Accogli in cielo e benedici con la tua infinita misericordia anche coloro che lavorando negli ospedali hanno sacrificato le loro vite per curare e salvare numerosi malati. Allo stesso modo, Signore, non far mancare la tua vicinanza alle forze dell'ordine, alla protezione civile, alle varie associazioni di volontariato, alla polizia locale, chiamate in questi giorni ad una grande e difficile opera per la cura e la salvaguarda di tutti noi. Fa, Signore, che a tutti questi angeli, in cielo e in terra, non manchi mai il tuo sostegno e la tua carezza misericordiosa di Padre. Affidiamo la nostra preghiera alla potente intercessione della Vergine Santa, che ben conosce le pene dell'animo umano e per le quali è sempre celeste dispensatrice di sollievo e di speranza. Amen. Grazie a tutti. Grazie a tutti.